Sono Tosca e voglio raccontarvi la storia di una donna straordinaria che lotta per la sua terra e per l'ambiente dove vive. Si chiama Maxima Cugna, vive nelle Ande con la sua famiglia, vive di Pastorizia, una contadina, e ha questo pezzo di terra che impedisce ad una società mineraria di portare avanti un progetto di espansione e di profitto che distruggerebbe l'ambiente. Questa donna, proprio per evitare che gli venga tolto questo pezzo di terra, non lascia mai la sua casa, nonostante le minacce, nonostante le violenze fisiche, psicologiche, gli hanno distrutto i raccolti, gli animali, ma soprattutto nessuno può andare a trovarla perché deve passare attraverso questa sorveglianza che impedisce di avere una relazione sociale umana. Quindi questa donna è in questo momento, come potete ben capire, in pericolo. Vi chiediamo di firmare l'appello di Amnesty, un appello aderendo a questa campagna che si intitola Bright for Rights, che è una maratona di raccolta firme, appunto su amnesty.it, affinché questa donna possa essere aiutata e affinché possa vivere nella sua casa, ma soprattutto che l'ecosistema andino non venga distrutto per sempre.